Inserire la manovella nell'apposito foro, e girare seguendo il senso indicato dalla freccia. Girare la manovella, finché l'ombrellone non si apre totalmente. Girare la manopola della guida di scorrimento, per regolare l'implinazione del telo. Una volta scelta l'implinazione, girare la manopola per bloccare il telo. Svitare leggermente il grano, posto in fondo al palo con la manovella. Ruotare l'ombrellone. Abbitare il grano posto in fondo al palo con la manovella, per bloccare l'ombrellone. Girare la manopola della guida di scorrimento, per sbloccare il telo, e inserire la manovella nell'apposito foro, girando nel senso indicato dalla freccia per chiudere l'ombrellone. Rimuovere il telo dalle stecche. Prendere la stoffa alati, di una stecca diagonale. Iniziare a ripiegarla sulla struttura, sormontandola uno spicchio alla volta. Assicurarsi che la stoffa non rimanga, in contrasto fra le stecche. Chiudere il telo con il laccio. Aprire la cerniera del fodero. Inserire l'uncino dell'asta telescopica all'apice della zip. Portare il fodero all'apice dell'ombrellone. Far scivolare il fodero sull'ombrellone. Inserire l'uncino all'interno dell'occhiello della zip, ed accompagnare gentilmente la chiusura della zip. Svitare il grano in fondo all'ombrellone. Rimuovere l'ombrellone dalla base.